Questo programma è offerto da Tecnocampus Giovedì 30 maggio Buongiorno da Teleprima, benvenuti anche oggi a questa nostra quotidiana rassegna stampa che come ogni mattina è offerta da Tecnocampus Anche quest'oggi l'informazione in primo piano riguarda fortemente la politica visto che ci sono ancora tanti problemi ma soprattutto tante indecisioni per quanto riguarda l'ambito del governo soprattutto in quello che è il Movimento 5 Stelle Nella giornata di oggi infatti si voterà sulla piattaforma russo perché Di Maio vuole avere la conferma oppure la smentita per quanto riguarda la sua capacità di essere il primo elemento di questo movimento ma insomma oggi vedremo che cosa accadrà si vota appunto da questa mattina fino alle 22 di questa sera dopodiché il governo vedrà che cosa accadrà e cominciamo a vedere subito le prime pagine quotidiane nazionali iniziamo questa mattina lo quotidiano di via Sofferino vediamo cosa ci racconta il Corriere della Sera che parte proprio dal problema dei conti i timori del Quirinale, assemblea attesa nei 5 Stelle Di Maio chiede la fiducia sul sito Russo e lo scenario del voto a settembre la lettera dell'Europa che finalmente era tanto attesa e adesso è arrivata sforzi non sufficienti il tesoro ora le cessioni e infatti questa è la prima preoccupazione proprio la lettera arrivata dall'Europa che dice che i nostri conti non sono necessari non sono fondamentali e non sono abbastanza sicuri per andare avanti ma ancora vediamo che cosa viene raccontato nell'editoriale di Paolo Mieli ma il PD ha bisogno di alleati questa è quella che viene definita l'opposizione e intanto c'è un mese per capire che cosa accadrà di questo nostro governo e sulla rete invece lo psicodramma del Moivento proprio riferito a questa votazione nella giornata di oggi ancora vediamo nella prima pagina le notizie di Cronaca uccise Pamela carcera vita per Osegale la sentenza di macerata che è arrivata ieri tante le attestazioni di gioia diciamo così se si può parlare di gioia in questo caso per ovviamente la pena inflitta a Osegale ma nello stesso tempo c'è chi dice non era da solo e ancora vediamo nella parte centrale della pagina Firenze esposti 105 dipinti una quarantina nei depositi però pensate un po' da decenni viaggia negli uffizi mai visti i tesori delle nuove 14 sale e intanto i segreti svelati sotto accusano la toga del CSM ed infine ancora una volta uno sfregio alla Shoah una scritta che comunque determina proprio una riduzione di quello che è il rispetto per qualcosa che è passato ma tanto passato non è ancora vediamo gli altri fatti in primo piano ci spostiamo sulle altre testate nazionali vediamo la verità che in questa mattina apre su Di Maio mette il governo in mano a 50.000 grillini la piattaforma decide se deve dimettersi il vicepremier non intende farsi giudicare dai colleghi pentastellati smaniosi di fargli le scarpe in Casselvia libera di Grillo e oggi probabilmente quello degli iscritti se non fosse così l'esecutivo avrebbe le ore contate e intanto la Lega vuole il CDM per barare la flat tax e pressa Conte lui corre al colle e ancora vediamo le altre notizie in primo piano vediamo un'immagine turbata di Papa Francesco Viganò Bergoglio mente su McCarrick e il sito del Vaticano pensate un po' censura alle frasi del Papa non sapevo nulla in un'intervista alla TV messicana Francesco finalmente risponde all'ex enunzio che però contrattacca nella traduzione italiana cancellata una risposta del pontefice e intanto vediamo nella colonna di destra si parla ancora di Chiesa che deve arrendersi dialoghiamo con Salvini questo è quello che la verità oggi mette in evidenza e ancora a fondo un partito Cananda appena eletto col PD vuole sfasciare intanto il PD e nella parte bassa della pagina la guerra dei giudici e dei giornali per prendersi la procura di Roma stiamo parlando di Repubblica e Corriere che sparano per azzoppare il favorito ma scordano un nome e ancora condannato all'ergastolo nigeriano che ha ucciso e fatto a pezzi Pamela l'orrore di macerata e nella parte bassa della pagina Gucci manda in passerella pensate un po' gli abiti pro aborto e i suoi quotidiani pubblicità con i gay l'allarme che viene lanciato appunto da questa testata che ovviamente si trova diametralmente opposta e ancora vediamo il fatto quotidiano la Commissione dell'Unione Europea scrive all'Italia troppo debito nel 2018 ora la scelta è tra correggere i conti d'autunno fare la flat tax senza coperture però da 30 miliardi e intanto l'apertura è questa questa mattarella s'aggrappa a Conte barricate contro le elezioni anticipate e sicura maggioranza Lega Fratelli d'Italia se si vota a quanto pare Salvini diventa Premier e così si sceglie il nuovo Presidente nell'incontro tra il Capo dello Stato e il Premier la parola chiave è congelare il rischio di crisi insomma per evitare una frattura è probabile maggioranza sovranista di questo si parla sul fatto quotidiano in questa giornata ma ancora si parla della notte di Di Maio con gli eletti volete andare tutti a casa? e allora ovviamente votate e vedrete che cosa accadrà e intanto vediamo ancora in questa prima pagina del fatto quotidiano Pignatone, lobbista a cena e la grande guerra di dossier il Palazzo dei Veleni procura Roma tutti contro tutti per la successione ancora continuiamo a sfogliare la prima pagina del fatto quotidiano e vediamo proprio il Summit del Clan i Casamonica riuniti per far fuori la raggi mentre per l'antiambiente il lobby petrolio mezzo miliardo contro i verdi insomma si lotta ancora contro quello che è stato dichiarato tanto da Greta questa ragazzina che ha fatto la storia smuovendo le coscienze di tanti coetani che adesso viene criticata insieme a lei viene criticato tutto un movimento che tende comunque e soprattutto a rendere il mondo qualcosa di molto più bello e soprattutto più pulito ancora vediamo nella parte bassa della pagina lauda quelli del selfie con il morto l'estremo oltraggio solidi webeti e i funerali del campione insomma adesso non c'è rispetto più per nulla l'unica cosa che si sa e si riesce a comprendere è che ovviamente tutto ciò che è considerato considerato quasi trash diventa la prima voce e soprattutto il primo piano di tanti ossia il web e soprattutto ciò che è internet selfie diventa proprio un'apertura verso il mondo anche se comunque ripetiamo diventa tutto sempre più complicato e nella parte bassa della pagina l'arte è formidabile che anticipa quella che è la fine del mondo nella Biennale di Venezia ancora continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani ci spostiamo adesso su una nuova testata e andiamo a vedere proprio che cosa racconta questa mattina Libero che urne cinerarie per il Movimento 5 Stelle i resti grillini in fiamme rosonano di mai oggi referendum online sul destino di Gigino alla guida del Movimento operazione inutile poiché il capo 5 Stelle è già stato bocciato domenica comunque vada sarà un insuccesso Salvini lancia l'ultimatum non alla linea di Battista altrimenti a casa insomma queste sono le alternative Di Maio o Di Battista chi vincerà questa vicissitudine soprattutto questa tornata chiamiamola così elettorale online diventerà il nuovo vice premier ma il problema grande è che se per caso dovesse essere bocciato Di Maio e passare Di Battista Salvini lo ha già detto noi andiamo a casa il governo finisce qua è ancora meglio rivotare ora per favore non dateci un governo tecnico insomma ma tante le paure ma tanti soprattutto i problemi legati appunto alle votazioni di domenica scorsa il ovviamente il netto contrasto tra Salvini quindi la Lega e Di Maio e quindi Movimento 5 Stelle porta proprio questo a delle rotture senza fine ancora vediamo nella parte centrale della pagina si parla di sfida tra donne in tv a quanto pare finisce pari Barbara D'Urso e Mara Venier si equivalgono negli ascolti ovviamente non si equivalgono in quello che è il modo di fare televisione nella parte bassa della pagina ecco qua da Bruxelles l'Unione Europea rimprovera l'Italia che invece sta a Benone e ci sgrida per il debito ma i titoli di Stato vanno a ruba e pensate un po' la fiducia sale almeno secondo questa testata e intanto vediamo nella parte destra della pagina quello che viene definito la fondatore pentastrellato ma la colpa grave del fallimento è di Casaleggio e intanto forse una pecora corrotta tra i magistrati indagato infatti l'attoga Palamara e ancora nella parte bassa della pagina troppe storie finiscono male e a quanto pare chi diamante ferisce poi diamante perisce oggi la parola amante sembra essere sempre più in voga sembra quasi che se non si ha l'amante non si è nessuno sembra proprio che l'amore non regni più in questo mondo ma a quanto pare tutto il resto sì è ancora incredibile l'episodio in Puglia seppure i vigiurbani molestano un disabile allora davvero si è toccato il fondo una vicenda che ci sembra proprio incredibile ancora vediamo le altre notizie con il giornale Salvini sceglie il capo grillino la politica che sembra impazzita oggi il referendum del Movimento 5 Stelle su Di Maio il leader leghista se vince Di Battista cade il governo secondo l'Europa ci dà 48 ore quindi domani la risposta dell'Italia all'Europa mentre Berlusconi rimette in riga Forza Italia basta Liti e intanto nella parte centrale della pagina la metamorfose a 5 Stelle per inchiudarsi alla poltrona la paura di tornare a casa e il paragoni da Bossi a Diba l'anticasta vuole il ministero il grillino che minaccia le dimissioni e intanto Alessandro Sallusti parla di indebitati e spreconi due giorni da incubi e nella parte centrale della pagina l'immunità chiespropia autostrade l'intesa giallo-verde per l'emendamento allo sblocca a cantieri mentre il magistrato che attacca il Cavaliere adesso è accusato di corruzione scambio di nomine al CSM indagato Palamara e andiamo sempre peggio e nella parte bassa della pagina la prima Ferrari ibrida e ricaricabile come cambia un mito a quattro ruote la più potente e silenziosa in assoluto e insomma siamo già proiettati in quello che è il futuro anche attraverso una macchina qual è la Ferrari che per antonomasia è una di quelle che corrono di più e soprattutto lasciano il segno col suo rosso indimenticabile e ancora il tempo il processo di Maio è subito farsa causa 5 stelle Gigino si rimette al voto online che sul blog diventa per confermarlo pure Grillo però lo blinda niente resa di conti in assemblea vince la paura di perdere la poltrona e intanto conta il rapporto da Mattarella che ha auto-ottimismo ma Salvini alza ancora il tiro e intanto nella parte centrale della pagina uccide 19enne a coltellate per vendicare la figlia un dramma ad ossia il giovane aveva apostrofato la 15enne con apprezzamenti e volgarità e è arrivata immediatamente la spedizione punitiva e ancora vediamo nella parte bassa della pagina diavolo tentatore Milan su Inzaghi i rossoneri vogliono il tecnico della Lazio slitta l'incontro con all'Otito ancora vediamo le prime pagine dei quotidiani nazionali questa volta ci tuffiamo sulla Repubblica il quale dà l'allarme il Colle preoccupata per l'economia chiede un governo che sappia decidere è arrivata la lettera dell'Unione Europea che boccia i nostri conti e Di Maio il referendum sul ruolo oggi sulla piattaforma russoma Grillo il leader leghista si sono già schierati con lui Salvini attacca Lerner Saviano e Fazio con loro il Rai non c'è cambiamento e sul magistrato sotto accusa nomine corruzione altri tre indagati e infine vediamo nella parte bassa della pagina l'analisi la finta ordalia dei 5 stelle nel racconto di Sebastiano Messina per quanto riguarda lo sport invece De Rossi guidò la rivolta anti Totti quella che viene definita la vera storia del caos al Roma ancora continuiamo a sfogliare le prime pagine dei quotidiani con il manifesto contifirma la tregua con i vice arriva la lettera di Bruxelles manovra bis entro il 9 luglio e intanto il rapporto sullo stato sociale il welfare aziendale taglia la sanità mentre la parte centrale annuncia una rete di salvataggio ed eccolo qua vediamo Grillo nell'immagine Di Maio e all'assemblea dei parlamentari 5 stelle si allarga di senso nei confronti di Di Maio dopo la batosta elettorale Magrillo e Casaleggio blindano il capo politico oggi deciderà la piattaforma russo e il vice premier chiedo la fiducia per riorganizzare il movimento 5 stelle altrimenti si cambia e ancora vediamo le altre notizie ci spostiamo su il mattino andiamo a vedere i fatti in primo piano l'eterna saga stiamo parlando di Godzilla che diventa alleato di Greta difenderà ora l'ambiente contro i veri mostri e il festival a Salerno letteratura il Pulitzer Power Solomon's e Guielmini e il gusto passione pasta e segreti del cibo più amato degli italiani dagli italiani insomma siamo nel 2019 ancora ci sono tante iniziative per quanto riguarda l'alimentazione ma la pasta rimane ancora una volta il piatto più amato e il movimento 5 stelle in apertura di pagina Di Maio prova a salvarsi ma avanza il voto anticipato il leader dimissionario Gero De Assemblea in bilico la conta su Russo Salvini da Conte vai avanti ma il premier al colle non mi faccio rosolare e intanto la crisi dei 5 stelle perché i clic non fanno tornare i consensi raccontato da Massimo Adinolfi e intanto la risposta all'Unione Europea che boccia l'Italia sul debito e tesorano alla manovra bis e infine nella parte più bassa della pagina lo sport trionfo celsi il tecnico dedicato ai tifosi del Napoli Sarri sa anche vincere ora la Juve a quanto pare è a un passo mentre per la lotteria a reddito il secondo a credito in forte ritardo le prime ricariche inizieranno già da metà aprile proteste nei CAF non c'è certezza nei pagamenti e ancora una volta i danni del federalismo Giorgetti ammette sud senza silinido rimedierà a questo punto il giudice ovviamente negli impegni di Salvini adesso che ha avuto più del 34% per quanto riguarda l'europea c'è in testa ovviamente l'autonomia regionale e a chi andrà a discapito questo lo vedremo e nella parte bassa della pagina il fronte del Made in Italy di qualità dalla mozzarella al parmigiano la rivolta dopo ai razzi di Trampa ma anche questa è una notizia che esamineremo nei particolari durante il corso di questa rassegna stampa intanto ci spostiamo sulla parte sportiva e vediamo che dal Corriere dello Sport Sarri Ball Maurizio trionfo a 4-1 la Juve intanto lo aspetta coraggio e sarriismo ormai le parole che riguardano Sarri hanno fatto la storia e sono entrati proprio nel linguaggio comune il Chelsea conquista l'Europa League primo trofeo della carriera per il tecnico Agnelli lo vuole a Torino ma Abramovic può bloccarlo l'Arsenal dominato e battuto con Giro Pedro e Hazard la doppietta e intanto nella parte bassa Milan nel pugno di Elliot nel fondo americano si moltiplicano le perplessità sulla gestione della società rosso-nera in dubbio anche il ruolo di Gazidis caccia ai nuovi soci e non si sclude l'ipotesi della cessione ed infine ecco la quale svolta ibrida Ferrari la SF90 stradale sempre più veloce ma sempre più ecologica e ancora vediamo le notizie sportive con tutto sport nella parte alta mediano serbo di proprietà del Liverpool non solo per Evra Toro anche Grugic e sorpresa Milan sbuca con Seisao Elliot spinge per uno straniero in panchina e nella parte centrale della pagina anche qui trionfo Sarri e ancora è ora la Juve il Chelsea schianta l'Arsenal e conquista l'Europa League ieri a Baco incontro fra Agnelli e il presidente dei Blues oggi la gente ramadani a Londra per liberare il tecnico e ancora vediamo Chiapucci vota giro a Carapazza il mio sosia viene raccontato proprio in queste pagine ancora nella parte più bassa della pagina Niki Lauda l'addio con la tuta Ferrari ed infine Marco Bonetto che racconta che è a Betlemme con Fiorentina e Cagliari nel nome di Astori insomma un omaggio a due celebri comunque sportivi da Niki Lauda ad Astori e comunque un rimpianto per entrambi gli sport con questi personaggi per quanto riguarda la prima parte della rassegna stampa termina qui ma non termina qui la rassegna e infatti vi lascio due minuti di pubblicità dopodiché ritorniamo in studio e andiamo a affrontare le notizie che riguardano la regione Campania quindi non andate via a le notizie che riguardano All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale ex San Goben Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Ed eccoci di nuovo in studio pronti ad affrontare quelli che sono i temi che riguardano la regione Campania con una particolare attenzione per Caserta la sua provincia. Ma cominciamo subito a vedere i fatti che riguardano Napoli, ma in questo caso riguardano un po' tutti noi e soprattutto chi è genitore e quindi le mamme. Infatti la mamma di Noemi, stiamo parlando della bimba che è stata colpita in piazza nazionale lo scorso 3 maggio, dice la mamma, mia figlia soffre ma sorride, per ora non può ancora giocare. La bimba è ancora ricoverata al Santo Bono, però è uscita ovviamente dalla rianimazione. Il colpo di pistola non è riuscito a toglierle il sorriso. Né quella luce negli occhi che si accende quando Noemi, la piccola guerriera di 4 anni, incrocia lo sguardo ai genitori. Ma il cammino è ancora lungo la strada in salita e Tania non lo nasconde. Mia figlia non si può ancora muovere, avrà bisogno di tante cure, terapie e attenzione prima di poter tornare alla vita normale, dice la madre e la bambina ferita nella folle sparatoria di piazza nazionale. Insomma, non è semplice, assolutamente non è semplice, ma sicuramente già essere venuti fuori da quella sala rianimazione in cui la bambina è stata ricoverata per tanto tempo e per cui tante volte si è temuto direttamente per la sua vita, adesso ogni passo è un passo verso una salita e soprattutto verso la vita. Difficile ovviamente, però comunque già c'è tanto più ottimismo. Ancora vediamo le altre notizie in primo piano, continuiamo da Napoli, si parla di inaugurazione universiadi, ormai ci siamo, mancano pochissimi giorni per l'inizio di questa grande Kermers, al via le selezioni per 1500 giovani, si cerchiano infatti performer ma anche appassionati di sport, ballo moderno contemporaneo e tradizionale, appassionati di musica e di ogni altra forma d'arte che avranno l'opportunità di esibirsi in mondo visione. Ed ancora vediamo le altre notizie in primo piano, sempre vediamo le altre notizie, ancora una volta si parla di caserta, l'allarme sui dazi USA per i formaggi DOP, incontro con il ministro Centinaio, il ministro per le politiche agricole, infatti intervenuto all'assemblea dei soci di Origine Italia, sulla promozione del patrimonio agroalimentare e delle DOP e delle IGP. Il nostro paese può vantare uno straordinario patrimonio di prodotti agroalimentari in quanto le specialità DOP e IGP rappresentano uno strumento di tutela delle eccellenze italiane e delle produzioni realmente legate al territorio. Si tratta di due elementi chiave per lo sviluppo di un'economia locale che sia anche in grado di attrarre il turismo, e quanto ha detto il ministro per le politiche agricole, alimentari, forestarie e del turismo, il leghista Gianmarco Centinaio, che è intervenuto alla XIII Assemblea dei Soci di Origine Italia, l'Associazione Italiana Consorzio Indicazione Geografica, che si è svolta proprio a Caserta, nella sede del Consorzio della Mozzarella di Bufana Campana DOP. Ancora vediamo gli altri fatti in primo piano, si parla ancora di notizie che riguardano però questa volta la cultura, gli incurabili beni artistici saranno infatti ospitati a Palazzo Reale, l'accordo è stato sottoscritto a Roma dopo diversi sopralluoghi e svariate riunioni, infatti sarà proprio Palazzo Reale di Roma ad ospitare i preziosi manufatti. L'accordo è stato sottoscritto a Roma dopo diversi sopralluoghi e svariate riunioni che si sono tenute nell'ultimo mese tra il commissario straordinario dell'Asda Napoli 1 Centro, il direttore generale archeologia, belle arti e paesaggio, unitamente al direttore generale dei musei, al direttore generale educazione e ricerche del ministero per i beni e le attività culturali. Insomma, tante notizie, tante novità, soprattutto in termini di cultura e rispetto di queste opere. E ancora si parla di politica, questa volta a esprimersi è De Magistris, il primo cittadino di Napoli, è grande risico della corsa alla regione, adesso a quanto pare si libera della sua voglia di fare politica, è infatti convitato di Pietra a Palazzo San Giacomo, specie in queste ore in cui aspiranti candidati e partiti studiano flussi e percentuali per calare le carte da gioco sul tavolo delle regionali. Altro che il Movimento 5 Stelle lega il politico, il movimento di cui volentano lento e occorre tenere comunque conti in campagna, rimane il sindaco Luigi De Magistris, che a sua volta, archiviato alle europee, deve pure avere, dove pure aveva immaginato di mettere una sua fischia presentando una sua lista, può ripiegare solo sulle regionali dell'anno prossimo, altrimenti con la fine del suo secondo mandato nel 2021 potrebbe vedere poi interrompere la sua carriera politica e per un periodo lungo, per ora però, di Magistris, come nel suo stile, a mica minaccia e dissimula pur di non scoprire quelle che sono le sue carte. E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano, Napoli, il marciapiede che non c'è, ma attenzione, è già assegnato al fratello del sindaco. E' infatti ironico il presidente del municipale di Chiaia, mentre stringe tra le mani il documento varato dal comune, incredibile, queste carte le ha prodotte qualcuno in grado di prevedere il futuro, sorride Francesco De Giovanni. Laddove c'è un parcheggio con strisce blu e già disegnato un ampio marciapiede e su quel marciapiede, che ancora deve essere costruito, sono già previsti due gazebo a disposizione di un locale. Ah, a proposito di quel locale, socio anche il fratello del sindaco. Stiamo parlando, l'avrete capito, del barocco inaugurato lo scorso dicembre al termine di un lunghissimo percorso di polemiche e l'attenzione venne generata da una richiesta presentata dal proprietario della struttura per aderire al progetto comunale adotta a una strada. Si chiedeva al comune di poter ampliare il marciapiede di Piazza Vittoria, che si trova proprio dinanzi al comune. Ancora vediamo le altre notizie in primo piano. Vediamo chi è il questore di Napoli. Dopo che De Jesu è stato promosso e quindi adesso si trova a Roma, Giuliano è proprio il nuovo questore. Faccio e Poliziotto dice non l'opinionista, ha riunito i suoi colleghi per un brindisi e saluto nella sede del Servizio Centrale Operativo in via Tuscolana a Roma l'ultimo giorno di Alessandro Giuliano, direttore dello SCO. Lascia per venire a Napoli a guidare la questura a suo posto, su ventra Fausto Lamparelli, che è stato capo della squadra mobile napoletana e negli avvicendamenti Luigi Rinella, capo della squadra mobile a Napoli, fino a tre settimane fa prenderà il posto di Lamparelli nella direzione del Servizio di Polizia Scientifica. Tutti insieme a Brindari a fare gli auguri al nuovo questore di Napoli che arriverà in città nelle prossime ore e si presenterà sabato ai giornalisti. Oggi invece il saluto del questore uscente Antonio De Giesu, nuovo vice capo della Polizia Vicario. Ancora vediamo gli altri fatti proprio trovati sul mattino. Cronaca, medico colto da infarto in corsia, colpa dei turni massacranti. E infatti si parla questa volta non di un paziente che si è rivolto in ospedale per un dolore a petto o comunque per un problema cardiaco, ma si tratta proprio di un medico. Infatti il nostro collega, mentre stava facendo la guardia a pronto soccorso, è stato colto da infarto ed ora è grave. Lo stesso medico avrebbe dovuto fare due notti nei successivi tre giorni. Qualche giorno prima un altro chirurgo a Ruggi d'Aragona ha avuto un infarto sul luogo di lavoro. Non possiamo più tollerare che le carenze e lo stato di abbandono del reparto mettano a rischio la salute di personale e utenza. A parlare Massimo Infranzi, noto e stimato chirurgo e radiologo cavese, erede di una famiglia di medici. La sua lunga militanza all'ospedale Santa Maria dell'Olmo gli permette di analizzare la situazione del reparto di chirurgia, ma soprattutto gli impone di lanciare un grido d'allarme, un nuovo SOS. Dopo le segnalazioni di carenze di personale in pronto soccorso dal contratto, non si può sopperire a una carenza di personale in un reparto con personale di un'altra divisione come la chirurgia, che ha problemi di organico, spiega Infranzi. Siamo rimasti in quattro e non riusciamo ovviamente a coprire i turni. E ancora ci spostiamo adesso sulle pagine di Caserta News. Andiamo a vedere i fatti che troviamo proprio prevalentemente in Caserta e nella sua provincia. Vediamo che da capo all'ex sindaco Antropoli è rinviato a giudizio con altri quattro. A processo anche Francesco Zagaria, Porciello, Ricce e Taglia la tela, abbreviato per De Luca. E vediamo infatti che l'ex sindaco di capo a Carmine Antropoli, nell'immagine che possiamo vedere qua in primo piano, è stato rinviato a giudizio. Questa è la decisione del gruppo Claudio Marco Pito del Tribunale di Napoli, che ha disposto il processo per il medico ex primo cittadino capuano. L'imprenditore Francesco Zagaria, alas Ciccio e Brezza, per Armando Porciello, 47 anni di capo, per l'ex consigliere comunale Marco Ricci e l'ex assessore Guido Taglia la tela. Ha chiesto il processo con abbreviato Marco De Luca, 46 anni di capo, le cui sorti si decideranno nell'udienza fissata a metà luglio. Il giudice intanto si è riservato sull'istanza di scarcerazione presentata dagli avvocati di Antropoli. Ancora vediamo altre notizie di cronaca. Schianto mortale, l'autista del tira è finito in un fossato per evitare l'impatto. L'automobile è finita frontalmente contro i camion e un 24enne è morto in ospedale. E infatti fatale è stato lo scontro tra una Fiat 500 ed un tir sulla strada statale Casirina, a chilometro 184 e 500. Nel comune di Pignataro Maggiore, l'impatto è stato violentissimo. Il conducente della Fiat 500, un 24enne di Aversa, è estratto ancora in vita dalle ramiere e dai vigili del fuoco a causa delle gravi visioni, però non è sopravvissuto al trasporto al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. E ancora vediamo la cronaca. Droga Market in casa ha arrestato un 46enne. Blitz della Polizia Guardia di Finanza con i cani in appartamento, denunciata anche la figlia. E infatti quando i giugenti della squadra mobile della Polizia di Caserta e quelli del commissariato di Santa Maria Capovedere hanno fatto irruzione nel suo appartamento a Viturazio, ha tentato di giocarsi la carta della disperazione, gettando un involucro contenente cocaina dalla finestra del bagno. Ma questo non è servito ad evitare l'arresto per spaccio di droga. Già da qualche giorno gli agenti della mobile e quelli del commissariato san maritano stavano monitorando quella casa trasportata in un vero e proprio Market della Droga. Giorni di appostamento per monitorare con il solito andirivieni di clienti che salivano e scendevano dall'appartamento per acquistare stupefacenti di vario titolo. E insomma è rimasto stupito proprio quest'uomo che alla fine è stato arrestato e sembra essere arrivato proprio al capoline, almeno per il momento, quella che è la sua attività. E ci spostiamo adesso su Caserta, prima pagina, dove vediamo che si parla di Bufala Village a Caserta, la presentazione in sala giunta con Caturano e Marino. Vediamo l'immagine, anche questa in primo piano, con un sindaco sorridente. E infatti è stato il sindaco di Caserta, Carlo Marino, a fare i migliori auguri agli organizzatori del Bufala Village nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'evento che da venerdì 31 maggio fino a domenica 2 giugna animerà la Villa Maria Carolina dalle 10 del mattino fino a mezzanotte. Sono convinto che questa iniziativa, che riesce a mettere in collegamento la bellezza dei nostri monumenti con una filiera produttiva di eccellenza, potrà rappresentare un'occasione per tutta la città, dichiarato nel suo intervento, e a illustrare nei dettagli il progetto, è stato il presidente del Polo Fioristico A1 Expo, Antimo Caturano, promotore dell'iniziativa. Abbiamo voluto collegare il nostro evento alla reggia di Caserta perché il Bufala Village è un evento itinerante che mira a valorizzare tutte le qualità del Bufala Mediterranea italiana, ancora poco conosciuta. Intendiamo esportare non soltanto una filiera produttiva d'eccellenza, ma anche il nostro territorio. Ha sostenuto il presidente Caturano, che è passato a illustrare nei dettagli il villaggio allestito nella Villa Maria Carolina. Nella mattinata di venerdì ci sarà l'inaugurazione con la consegna della chiave del villaggio agli studenti delle scuole casertane da parte del sindaco Carlo Marino, un villaggio sorto grazie alla passione dimostrata dagli organizzatori e dagli allevatori che entusasticamente hanno aderito a questa iniziativa. Insomma, i ragazzi delle scuole di Caserta potranno vedere la realtà del mondo delle bufale, vedere gli animali, vedere proprio il loro latte, ma soprattutto la lavorazione di un importante alimento, quale appunto la mozzarella, quello che è proprio stato definito l'oro bianco della nostra regione, ma soprattutto di Caserta e della sua provincia. E anche per questa mattina la rassegna stampa termina qui. Vi ringrazio per essere stati con noi, per aver scelto Teleprima. Ringrazio come sempre Tecnocampus, che ci offre la possibilità di fare informazione e farla in maniera critica e commentata. E a voi tutti auguro una meravigliosa giornata e l'appuntamento è sempre per la mattinata di domani, stesso posto, stessa ora. Buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti. Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.